In questo video ci siamo finti Babbo Natale e abbiamo distribuito i regali a tutte le persone dell'isola O almeno questo era il piano Mi raccomando vedete il video fino alla fine per scoprire cosa ci ha fatto andare tutto storto E si lo so che nel sondaggio aveva vinto il video delle armi bannate Che comunque arriverà dopo di questo però visto il periodo ho deciso di farlo uscire prima a questo video E in più ci ho messo solo 4 giorni a farlo uscire quindi direi top E a proposito di Natale se volete farvi un bel regalo e shopparvi una skin sul Fortnite mi raccomando usate il codice Gallari Come hanno fatto Filiz, Val, Daniele, Alvise così ragazzi fate un regalo anche a me Ma adesso devo dirvi una cosa molto 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 importante Dove arrivare 8 minuti col video? Possiamo andare Ragazzi attenzione a me ragazzi con la prima cosa sfoggiamo le motte nuove Bravissimi Il piano di adesso signori fluttuanti sarà trovare il camion con il falso sergente inverno Prendere il suo posto e iniziare a distribuire regali ai bambini bravi E se ci sparano e fanno i cattivi li ammazziamo Ok? Oh questo muoio pure la porta Arrivo tra due minuti alla posta E ragazzi tutti i disguidi con le poste e con l'acqua siamo finalmente in partita E abbiamo Cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Ragazzi il boxing ha trovato il quad invece del camion Non c'è questa roba non serve a mente C'è un deficiente che fa Due deficienti Ragazzi il boxing ha trovato finalmente il camioncino del sergente Bruma Per farvi capire quanto tempo ci abbiamo messo Eravamo così disperati da voler caricare un video Cerchiamo il sergente Bruma e falliamo Cioè abbiamo messo tipo due ore a trovare Adesso però è lontano Molto molto lontano Questo sarà il punto dove ci metteremo insieme Su Fortnite Finalmente ci finanziamo su Fortnite Insomma ragazzi ho perso i suoi del discorso Dove raggiungere trash e iniziare a distribuire i toni Ai bambini buoni E ammazzare quelli Lasciami stare Lasciami stare Bisogna che lo faremo solo io e tre Ok ragazzi Un momento pazzo Mi sento così forse da fare una voce a una youtuber falso Senta a moro Senta a moro Senta a moro Ragazzi andiamo per il turbo Deve spicciato Non ci vediamo al video Ok ragazzi abbiamo recuperato il boxing E' stato un po' meno epico del solito Di quello che volevo fare Però insomma Non riesco a parlare Sapete che quando non riesco a parlare Sono degli utenti di Babbo Natale Che vogliono andare forse a eliminare trash Sta facendo finta Ma noi sappiamo Che noi siamo i veri sergenti brutta Ma sta prendendo Ragazzi Ha fatto tipo la direzione pazza Ma qui posso perdere questo in close Ma qui posso perdere questo in close Ma bene L'hai manco preso Ma che ragazzi abbiamo avuto trash Vai Non tanto per me Ma per il sergente E' cresciato Compilation di cazzate Ci mettiamo in aria E scrutiamo tutta la mappa Ci sarei tu scruti Io puzzo invece No ti sa Ho visto un cartello Con madrondo rosso Ho detto No Vedi di andare a scuola E parlare dalle lezze E carinarmi Mezzo di b*****a Che è stato fatto dalla remissione Fine compilation Ragazzi di vedo Sono pieni di punti acclamativi Cioè Ehi most C'hai il b*****o Ma morti Mi viene addosso con il trasto Sto pazzo Ho non ammazzato Il camion Non lo distruttio il camion Eh La vedo di stile Cioè Ho già vedo la moto Bocata da in mezzo Vabbè ma che c***o Se non deve andare A busto all'infinito Cioè ma che c***o Ok rallenta No Dai non sono morto Non dobbiamo pure nemmeno ammazzarci Ragazzi lo troveranno Il figlio di p*****a Sto sotto il fondo Non sta solo per strada E' per questo che non lo troviamo Perché si nasconde Si vuole la casa Che sta vedendo il video Non è che sto finendo la parte Io sto veramente piangendo Non dico sì Io vorrei che stiamo a cercare Stimfame Non ti preoccupare Ne andiamo Non si era Eravamo di passaggio Oh 86 Sembra l'uno di mille Ma sto proprio parcheggiando Ma che bazzardo C'è tutto sto bordello Fatto fin de' mo' Borghillo Quanti regali che mi hai fatto Signor sergente Bruma Peccato che tra poco Poi Madonna mia Non è durato Un secondo Si parte Ma ecco Le remi Le remi Arrivano Ah ce ne sono le remi Parlare tu devi stare dietro Sei tu babbo natale Io e la mia Mollettina Sono la signora Sto facendo gli edit Sto davanti a babbo natale Infatti ragazzi Questo qua deve morire Se deve morire assolutamente Ma dove? Non fa ancora Ma lo so Però l'hai visto che non c'era gli edit No ragazzi sta qua A terra Dante killer si chiama Oh vai boxing Oh si Vabbè ragazzi Mi sa che qua abbiamo proprio Un problema Un problema Benvenuti in un nuovo episodio De te L'angolo di Gino Vabbè nome Gino Anni 16 Da dove vengo Per uscire In provincia di Foggia In provincia di Bari In provincia di Puglia Ragazzi Mythbusters dentro il video Il palocco No ragazzi Si ce la fa No ragazzi Però sto camion Non spacca niente C'è gente Bruma Ma come cazzo Dove cazzo Ne hai comprate le cose All'emmd Che buone si dite Perché sei sponsor dell'emd Box Sei sponsor dell'emd Inversi di me Inversi di me Inversi di me Ma ragazzi Potrebbe essere la vostra salvezza Si Si ragazzi Si Si sta svoltando tutto L'importante è questo Prima o poi ce la farete Ragazzi Dai qua nevi babbi nasale E mai lasciassi da sole Mi pavamo ammazzare questi bambini cattivissimi Oh boxy 22 No tutti i boxy Scalco No Tanto che persone fa sole Ciao Usa i muri quelli falsi Beh ma siamo molto più veri No porco Tu qua vada Carlari Dai bravo natale numero uno Direi che sono il numero Facciamo la nome di Spider-Man Chi è il numero uno Chi è il numero uno Chi è il numero tre Tu l'uno Io il due Tu il tre Grande per aver esplorato Che stavano tra Spider-Man Vabbè dai che cazzo Va bene Continuate 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 E non fai il popo natale A strozzo di cosi Non fai il popo natale Tu non fai il popo natale Tu non fai il popo natale Ecco Sto prendo io Ragazzi siamo di nuovo popo natale Rosetta Il popo natale Il natale non potrà morire Io Oh 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 Merry Christmas Mi dico che siamo un po sassi così Però Non fai il popo natale Infatti dicevo che Andere così Che strada devo fare Io Vabbè dai stai qua Sovra C'è uno Stryker No ma che in testa Ma non serve a niente Ragazzi ma questo C'è Ci sono pochi bambini Su questi No 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 Bambu natale Posso di dimenticare Vabbè Va sparato Tu non tocchi Bambu natale A te C'è il bambino Il bambu natale Quindi devo dire Rimasto Vabbè Che lo scupper Sei un b*****o Fatta vrai Vabbab�� natale 3 Qua Oh 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 Ruote e bugate solo una Ma vabbè Quella non ci serviva tanto Siamo i super bambu natali Ninja assassini Che calvo Bambu natale è pure un assassino Dai ragazzi dai Domi per tutti Oh 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 donno Gabriele Oh 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 ho oh 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 Bolido quest'anno a babbonatale è solamente un giro mamma mia ragazzi venite qui che il camion è ancora bello sa tollo ragazzi è un 3 di 1 abbiamo vinto con babbonatale possiamo regalargli una vittoria forse tutte le pede che abbiamo passato c'è stata una volta che vuole anche lui sui premi vinta 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 la rampa si interrompe babbonatale 1 vinta c'è gente di sopra basta ragazzi da questa è la vendetta di babbonatale è un 3 di 1 e 2 di 1 vi prego c'è sono molto per colpa vostra vai babbonatale 2 let's go ragazzi merry merry christmas non so questo video quanto sia durato però buon natale